Ragazzi, ma se noi facciamo la vita da poliziotto su Brookhaven, ragazzi? Sì, proprio su Brookhaven. Se noi facciamo la vita da poliziotto, come diventa la vita? Beh, proviamo a vedere. Allora, poi iniziamo a pensare la casa tua. Buah, allora, per fare di tutto, allora. Ok, mettiamoci il lavoro. Quindi, boom, lavoro messo. Ci mettiamo il telefono. Questo qua. Questo qua. Ok, ora noi dobbiamo prendere la nostra macchinina, perché se no come la prendiamo? Ok, ok, allora. Ora mettiamo 55 di velocità, senza punto, 55, e vediamo il test di corsa. Uh, bello veloce. Ok, allora. Di sicuro qualcuno entra. Allora, vediamo se... Per caso il mio amico vuole entrare. Ho già detto il mauline. No, 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 vabbè. Ok. Aspettiamo che tutti gli altri vengano sul server. Ok, io intanto mi metto in posa. Ecco qua, proprio perfetto la percezione di tua, vostra mamma. E' perfetto. Io ora posso lavorare tranquillo. E c'è anche il telefono qua, perfetto. Allora, dobbiamo ancora quello che cazzo. Allora, lo sito sono stati ricercati. Meglio che vi togliete dalle piale. Perché se no... Eh, non va bene. Mammina. Poi che c'è scritto carotina cattiva 29. Quindi sei cattiva, non devi dire mammina. Perché se sei cattiva... Non puoi essere adottata. Non mi spiace, bimba. Anieo. Anieo, tu sei un'anieo. Su, no? Non ti chiamata? Vabbè, mettiamoci a lavorare. Allora, dobbiamo vedere le altre cose. Che è successo? Vabbè, non so che è successo. E si è bancato pure tutto. E risolve il nostro problema se fa così. Tutti che si finino lo mescolano, ragazzi. Occoni... Uff... Occoni... 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 buonisco buono il coso a ecco ti io leggo le chat aiuto sì ci aiuta quello dice sì adesso te lo te lo metto ok ciao ok ciao ricorda quello che ti ho detto prima ben di caso ciao cristo aglio ok letto il net unicono mamma sento mamma mamma non puoi adottare ma sento mamma oh sta mamma non la feglia o sta mamma vabbè io vado da volte a parte ti voglio tanto bene il primo bene finire il film ascio ma l'altro che è il bai marzo il bai marzo il bai marzo il bai marzo il cd il tuo saffra per te lo per 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 lo andate trattando bene la città oh ma poi se mi dicono che è uno scherzo oh ti ho chiamato questo paio no non ti ho chiamato se mi dite ste cavolate io veramente mi ballo dal viaggio da robux io so come si acra ora mi ricordo come si fa è la madonna però ma doveva chiamare i portieri doveva la polizia che cacchio fa posso fare così più facile del previsto signore ma vado a far bagno vabbè ma c'è all'imprevisto nel cacchio va non fa un bagno non mi chiamare più va che testa di cacchio cioè mi ha fatto un aiuto del cavolo cioè non era un aiuto un aiuto proprio un giocento il fuoco c'è devi chiamare i pompieri scemo pensaci prima che chiami a me prima fare una cavolata aprite ste celle nel cavolo che nessuno è stato rapinato po' ecco qua c'è altro che non stalking che vuoi dove c'è vabbè andiamo avanti allora ragazzi allora ragazzi dobbiamo vedere che questo ragazzo mi sta seguendo per cavolate allora secondo me stavo dicendo cavolate allora ragazzi ragazzi lo avevo già però salve almeno aiutanti ragazzi c'è meglio ma qui mi sono tolto il lavoro spazio ah bene li faccio io ma io mi chiedo vedete questa cosa dove ci sono i tasti dei codici dove è la cosa per pagare la cosa che ha fatto cioè non c'è perché a me ci dovrebbe essere subito però andiamo a fare benzina alla mia auto come sarebbe oddio oddio madonna come guida stavano cambiamo server vieni chiami proio non si sapevi chiamare capri ponti tra più bello lo fa schifo è diventata biondina la biondina la biondina perché lei è la biondina la biondina la biondina la biondina la biondina che mi sta chiamando a quest'ora sì mi sta chiamando per cazzare vabbè allora andiamo avanti perché questo qua mi sta chiamando solo per cavolate generali vabbè procura un altro lei deve chiamare l'ospedale sciomunito ma lei non ha proprio sensi sensi di testa parte nessuno allora io controllo la città vabbè vabbè quello che fa sempre con me sta allora vediamo se trattano la città bene stupo cavolo sperare non chiamare me testa di cavolo che sei sempre l'altro sei vi vi allora vediamo su mia madre è sempre online lei non insomma ma attenzione attenzione trattate bene devo trattare bene trattate bene la città sennò vi sparo e in galera oppure vi sparo oppure in galera che sta facendo lei e che sta mettendo le cose qua eh signore signore è andata bene la città non in galera no no guarda è edi qua tu ora tu ora devi venire qua con me ora ti prendo con la macchina ti prendo con la macchina ora non ti pensare ti prendo con la macchina ti prendo il pieno va ok è salito ragazzi abbiamo rapida su questo ragazzo perché dovrebbe trattare bene la città signore lei è in galera che sta facendo l'ora è super bagnita proprio vado con la macchina tanto uno skateboard cosa mi puoi fare con una macchina non posso che in due minuti eh bravo ha girato attiviamo questi madonna ho sperato limite di la città cavolo dov'è andare a 65 metri sono solo andato a 35 sono andato a 65 ma no dj 69 ragazzi sono un po' stanco e mi brucia gli occhi niente da fare niente da farino per chi mai in sta poi esce non so che cazzo ed è là ragazzi la vedete quella piccola bestia giorno di lavoro come sempre lavoro è un lavoro l'amore l'invito cosa è successo credo è venuta là cosa è successo è migliore la città è appena stata derubata la banca oh diavolo subito signora andiamo 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 derubata la banca derubata la banca derubata la banca salga signorina salga 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 subito dobbiamo andare alla banca alla banca la banca vado alla banca vediamo vediamo signora è grave è grave è grave signorina è grave è gravissimo è gravissimo è vero venga 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 Ok, allora signora, è grave, è grave, bisogna arrestare ora, bisogna arrestare subito, dove che sto parlando? Ok, allora signora, vengo con me, dobbiamo andare subito a vedere dove sono quelli là, andiamo subito a vedere. C'è nessuno qua, diavolo, bisogna andare a vedere dove sono quei stronzi, allora qua non ci sono, ok, 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 noi dobbiamo vedere dove sono quegli stupidi pazzi, vediamo dove sono, signora, ok, niente da fare, missione fallita, missione fallita, è scritto, missione fallita. Non dovrebbero trovarti carcerati ora, niente da fare, niente da fare, vabbè, andiamo avanti ragazzi, se niente da fare, niente si può fare, dice sempre il cuore, per uscire, faccio così prima. Ok, mi sono fallita, è scritto, ora andiamo. 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 Povero. Si. Non mora. Io sono del capo, ricordati. Qua è stato ingravato un incidente a me, mi sembra, eh. Andiamo. Andiamo. Guardate. Guardate. Sei incidente. C'è nessuno dentro. Ma che è abbandonato sta cosa? Mi ha abbandonato. Ok, meglio di lasciare stare. Passiamolo. Ok, allora. In questo momento sto facendo un video. E quindi devo comportarmi bene con i miei fan, perché sono molto bravi. Visto che siamo arrivati a tanti iscritti, voi siete più bravi di me, se sapete. Vi do un complimento in più perché siete stati bravi, ragazzi. Iscrivetevi ancora, se volete. Oppure, se non sono bravi, iscrivetevi. No, iscrivetevi. Allora. Lavoriamo e scriviamo che neanche il vostro tollo è stato pure qua. Scriviamolo. Ora lo facciamo in carica, lo facciamo sempre in carica, facciamo tutto mentre in carica. La storia della carica. Ok, allora. qui abbiamo fatto tutto e possiamo andare avanti quindi qui entra sempre quella strana bionda ragazzi non si può non si può ragazzi allora guardate quella là che è spavolata a poche ore quella là vedete chi sei? che vuoi? che vuoi? perché mi prendi? che vuoi? vabbè lalalalalala sto facendo un video oro allora andiamo da una parte creiamoci allora per più di cosa ci dobbiamo creare una casa se non creiamo la casa non possiamo fare niente naturalmente quindi per andare ci creiamo la casa quindi casa 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 lalalalalala ok allora ostiamoli la casa visto che noi non siamo tanto ricchi allora lasciamo la casa aperta tanto se qualcuno me la ruba non fa niente perché è un gioco quindi niente e poi andiamo andiamo sempre qua, andiamo sempre alla nostra stazione, dove stiamo facendo sempre il lavoro, la vedete dove si trova, quella là, che si finge Roby, però non è vero, allora, oh che bella l'antanella, voglio andare sull'altalene, anzi no, ora non vorrei più andare sull'altalene, perché non mi piacciono, allora, troviamo ad andare un po' con la macchinina, un po' con la macchinina, no, allora, facciamo così, io, 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 però nera, tutto nera, eh, oh, controllo la città, mi sta andando bene, è sparito, quindi, andiamo ancora a cercare, oh ma, eh, si, ma entra di nuovo, che cacchio devo fare, se questa mi miraccia perché ho la pistola, ma io sono un poliziotto, stupida, mi spara, mi non mi scelgo, ok ragazzi, possiamo anche andare a casa oggi, ah, è stata una bella giornata, dov'è la mia casa? un attimo, andiamo da un'altra parte, proviamo ad andare di qua e vediamo se abbiamo la casa, eccola là la nostra casetta, ok, possiamo aprire il nostro garage, aia, oddio, ok ragazzi, eccoci qua, ora, chiudiamo, scendiamo, chiudiamo la macchina, lavoro, prendete una pausa, chiudiamo la porta, mettiamo il colore della casa blu, ok ragazzi, per oggi, questo giorno, io me lo dicherò, come se sono bandito da un gioco, e quindi ragazzi, come vi posso dire, oggi, siamo stati bravi, perché abbiamo compiuto un po' di missioni, quindi ragazzi, iscrivetevi, e continuiamo, ok ragazzi, se è solo cattivo, togliete l'iscrizione, non vi preoccupate, ma se siete iscritti a questo canale, siete più bravi di ora, vi consiglio, bye bye ragazzi, buona notte, buona notte, Grazie.